Celebrata questa mattina nella chiesa parrocchiale di Bottagna dedicata a San Michele, patrono della Polizia di Stato, la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Palletti e concelebrata dal parroco Don Filippo Santini, da altri sacerdoti del vicariato e dal cappellano Don Gianni Sarti che proprio in questi giorni per raggiunti limiti di età lascia l'incarico. Presenti le autorità civili e militari, rappresentanti del personale in servizio, molti gli ex colleghi in quescenza con i familiari, rappresentati anche dal gonfalone dell'associazione. Nel corso dell'Omeria il Vescovo prendendo spunti dal Vangelo ha sottolineato la figura dell'Arcangelo Michele e le peculiarità più rilevanti per le quali è stato prescelto quale patrono della Polizia. Michele è patrono della Polizia di Stato e la Polizia di Stato deve intervenire quando c'è stato l'evento. Però Michele lavora anche quando l'evento non c'è ancora stato, ovvero quando questo male è ancora dentro di noi, non è ancora compiuto, ma è lì, attende di essere portato a compimento. E mi sembra bello pensare insieme come Michele svolga un ruolo particolare in questo, silenzioso ma efficace, perché se da una parte è giusto combattere e reprimere il male, dall'altra Michele ci insegna quanto sia altrettanto doveroso veramente spegnerlo alla radice. Nelle intenzioni di preghiera sono stati ricordati caduti in servizio ed invocata una particolare protezione su tutti gli operatori impegnati a garantire sicurezza e civile convivenza. La celebrazione, resa solenne dal coro parrocchiale, è stata arricchita da due brani eseguiti dalla sovrintendente Loredana Sausa che hanno emozionato i presenti alla celebrazione. Il saluto finale del questore, rivolto a tutti gli uomini e le donne della polizia, è stata l'occasione per un ringraziamento a tutti loro per l'impegno e il sacrificio, ma anche per i ragguardevoli risultati raggiunti nella lotta alla criminalità, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica e le altre forze dell'ordine. Anche il questore, al termine della celebrazione, ha voluto sottolineare la piena sintonia con la figura del patrono San Michele, protagonista evangelico della lotta contro il male, ma anche profondamente impegnato nella prevenzione del male affinché questo non trovi attuazione nelle debolezze umane. Sicuramente, perciò è stato scelto come nostro patrono. Diciamo che la nostra attività è volta proprio a prevenire il male. Cerchiamo quotidianamente, attraverso la nostra presenza sul territorio, a dare sicurezza ai cittadini, a dare una percezione alta di sicurezza, a fare in modo che i cittadini possano girare in città tranquillamente. Spesso ci riusciamo, qualche volta no, non possiamo essere dappertutto, ma l'impegno, la costanza, l'abnegazione che tutti noi mettiamo in questo lavoro è al massimo livello.